La prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa un niggas, eccezionale azione, 1-4-1, prova in tiro, a Rete, a Rete è credibile! La prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa un niggas, eccezionale azione, 1-4-1, prova in tiro, a Rete è credibile! La prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa un niggas, eccezionale azione, 1-4-1, prova in tiro, a Rete è credibile! La prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa un niggas, eccezionale azione, 1-4-1, prova in tiro, a Rete è credibile! La prova a liberarsene, ondeggia, slalom, messa un niggas, eccezionale azione, 1-4-1, prova in tiro, a Rete è credibile! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.